Rientrata la mini crisi di calciatori col Santo Tommaso, si va avanti e si aspetta il mercato dicembrino? Sì, in effetti dobbiamo solo pensare a questo, anche perché purtroppo una decisione della società, nonostante io non l'abbia condiviso, è stata presa. Quindi bisogna stringerci intorno ai giocatori che ci sono, aspettare il mercato dicembre per cambiare qualcosina, perché poi grazie a dir il tempo c'è per rimediare. Mister, analizzando la giornata prossima del campionato di eccellenza, iniziamo dalla parte alta della classifica, spicca sicuramente la partita Palmese-Bolitano, una gara dove sicuramente la Palmese vorrà vincere per riscattarsi dalla sconfitta di Cervinara, mentre l'Ebolitano vuole essere di nuovo protagonista, vuole restare protagonista. Una partita sì da tripla, la Palmese ha già battuto il Sorrento, una squadra in casa si fa rispettare, ha giocatori di qualità e quindi renderà la vita molto difficile all'Ebolitano, nonostante l'Ebolitano abbiano una squadra importante, una rosa importante, penso che è una partita molto vincente, con un risultato molto in dubbio. Il Sorrento avrà vita facile contro il Sant'Agnello? Sì, il Sorrento credo che sia la squadra, l'ho detto dall'inizio, la favorita, perché oltre ad avere una grande squadra, l'ambiente è molto coeso, compatto, una buona società, e quindi penso che la partita finirà a vantaggio del Sorrento. Il Cervinara fa visita al Carse San Giorgio in una gara importante, soprattutto per il Cervinara, perché inizia un periodo di gare più in discesa. Sì, ha dimostrato in questo avvio di campionato che è una squadra molto importante, che non avevo dubbi, sta facendo bene, continuerà sicuramente a fare bene, domenica c'è una partita, almeno sulla carta, agevole, se continuerà, nonostante abbia le assenze di Befi e Zerillo, ha dimostrato già con la Palmese che è riuscita a sopperire alla grande, quindi credo che ha la possibilità di rimanere comunque agganciata alla vetta. Mister, proseguendo, il Nola che è ritornato in auge, soprattutto quarta forza del campionato, però ha un osso duro che è il Solofra. Solofra in casa si fa rispettare, oltretutto è a 12 punti in classifica, quindi è una classifica abbastanza buona quella del Solofra. Sì, è una squadra che nonostante abbia contro di noi vinto, anche se non meritava di farlo, penso che il pareggio era più giusto. È una squadra che con Messina è molto organizzata, ha lo zoccolo duro già dell'anno scorso, hanno lavorato insieme, quindi credo che sarà una partita molto, molto difficile e che il Solofra sicuramente renderà la vita più difficile al Nola, anche se il Nola contro di noi è dimostrato di essere comunque una squadra importante, soprattutto in avanti dei giocatori che mi hanno fatto un'ottima impressione, quindi il Nola penso che sarà una squadra che fino alla fine arriverà tra le prime. Chiudiamo con il Sant'Omaso, Sant'Omaso che fa visita al Faiano, che è stata la squadra che ad inizio del campionato più ha impressionato. Poi ha avuto una pausa di riflessione, ora è ritornata alla vittoria, 12 punti in classifica, contro un Sant'Omaso che decimato nell'assenza e venderà gara alla pelle. Che genere di partita può uscire, soprattutto risultato a casa si può portare? Ma è chiaro che noi giochiamo sempre per far bene, nel senso anche se siamo molto rimaneggiati, un po' per le assenze che già avevamo siciliano e del Sorbo, un po' per questi ragazzi che sono andati via, questi quattro ragazzi sicuramente andremo molto, molto rimaneggiati, però cercheremo di fare una partita accorta sotto l'aspetto proprio della disciplina, della tattica e cercare se riusciamo a portare via qualche punticino perché fino a dicembre purtroppo questa è la squadra e dobbiamo adattarci e sfruttare al meglio le qualità di questi che ci stanno.